Il primo treno parte dalla stazione di Torino-Lingotto alle 4.53, l'ultimo alle 21.57, destinazione l'aeroporto di Caselle e poi Cirie, passando da Porta Susa, da Venaria e da Borgaro. La linea Torino-Aeroporto-Cirie, inaugurata ufficialmente venerdì 19 gennaio, è finalmente una realtà, con 58 treni al giorno andate e ritorno nelle due direzioni, 62 il sabato, 36 la domenica e nei festivi. 27 minuti di viaggio per raggiungere l'aeroporto da Torino e viceversa, al costo di 3,60 euro. La nuova stazione aeroporto e la linea Torino-Aeroporto è costata 230 milioni, legittima quindi la soddisfazione delle autorità regionali e locali presenti all'inaugurazione. Oggi è una giornata davvero storica, siamo stati a Cirie, nella sala del Consiglio Comunale, con tanti sindaci, tanti amministratori. L'emozione era palpabile per questo primo giorno di scuola della nuova linea Torino-Ceres. Oggi siamo qui, adesso a Casella, all'aeroporto, dove fermerà questo treno che davvero diventa una metropolitana della zona nord della nostra area urbana di città metropolitana. Un treno che era atteso da decenni, un treno che torna nella sua piena funzionalità proprio a servizio dei tanti cittadini che abitano nel territorio del Cirie-Cese, nelle valli di Lanzo e che può essere una leva di sviluppo importante per quello che riguarda il turismo. Collegare Torino con l'aeroporto, l'aeroporto con le valli di Lanzo, l'area interna con l'area urbana è sicuramente una sfida che città metropolitana si sente di dover raccogliere insieme al territorio e insieme a tutti gli enti locali interessati. Città metropolitana su questo tema è fortemente ingaggiata, con il progetto Bike to Rail abbiamo messo a disposizione del territorio oltre un milione di euro per le progettualità legate alla realizzazione di piste ciclabili che devono collegare il centro dei paesi con le ferrovie. È una giornata epocale, importantissima, col collegamento con l'aeroporto di Caselle che porterà dei vantaggi per tutto il nostro territorio, oltre alla regione intera e alla città. Adesso, come hanno ribadito sia il RFI che l'assessore che il presidente della regione Cirio, attendiamo gli sviluppi, i lavori per Germagnano e poi per Ceres che è il capolinea. Grazie a tutti.